Ciao, io sono Giapparo Beretta ed in questo video ti mostrerò come pianificare una missione di volo verticale per scopi fotogrammetrici utilizzando l'ICI. Ho già fatto dei video dove mostravo come realizzare questo tipo di pianificazioni di missione, dove però facevo uso anche di altri software, in particolare utilizzavo AutoCAD e QGIS per andare a disegnare e poi a convertire la rotta che doveva seguire l'APR in modo tale che fosse compatibile con i formati importabili all'interno di l'ICI. In particolare veniva utilizzato però Mission Hub che è un applicativo web di l'ICI nel quale venivano settati gli ultimi parametri e successivamente si salvava in cloud la missione che poteva essere poi eseguita in campo con l'app l'ICI installata sul dispositivo mobile. Quello che voglio fare oggi invece è una cosa un po' più semplice, nel senso che voglio poter programmare la missione di volo senza utilizzare QGIS e AutoCAD, utilizzerò semplicemente un foglio di calcolo, chiaramente questo semplifica di molto le cose, se ne semplifica nel senso che solitamente i fogli di calcolo sono più alla portata di tutti perché andare ad utilizzare QGIS o AutoCAD oppure genericamente un CAD per realizzare semplicemente la rotta che dovrà seguire l'APR costringe sostanzialmente ad imparare almeno i comandi basilari di altri due software che esilano un po' da quello che è la vera e propria programmazione della missione di volo. Invece vi farò vedere che l'utilizzo di AutoCAD, o meglio scusate del foglio di calcolo si ridurrà al minimo e sarà sostanzialmente volta alla modifica di alcuni parametri che vengono già generati da Mission Hub. Ora vediamo un po' quali sono i dati di input richiesti per la programmazione del volo verticale. Qui ho preparato alcuni schemi, questi schemi cosa mostrano? Il primo schema che si vede qui a sinistra sostanzialmente è una missione di volo orizzontale o perlomeno con una camera nadirale e l'APR è programmato in modo tale da seguire un percorso a serpentina con il sensore, con il lato lungo disposto perpendicolarmente alla direzione del moto. Diciamo che è una configurazione tipica questa, nel senso che l'APR si muove lungo la freccia seguendo la serpentina in questa direzione, la larghezza del sensore è come detto lungo quest'altra direzione e si avrà che gli scatti avranno una determinata sovrapposizione sia lungo la direzione del moto ma anche trasversalmente. Questo tipo di missione implica chiaramente che l'APR abbia la prua rivolta lungo la freccia e allo stesso modo anche il sensore sia rivolto con il lato corto nella direzione del moto. Chiaramente le cose cambierebbero se ad esempio il sensore della fotocamera fosse girato di 90 gradi e ad esempio il moto dell'APR venisse sempre lungo la freccia però con la prua rivolta in senso perpendicolare a queste righe azzurre. Questo accade ad esempio in una missione di volo, può accadere o meglio in una missione di volo verticale, infatti la missione di volo verticale semplificando può essere programmata in due modi o conservando la tipologia che ha mostrato Poganzi, quindi seguendo ad esempio direzioni di volo verticali nella quale il moto in verticale con la camera disposta, con l'asse ottico disposto perpendicolarmente alla parete ad esempio, il drone si muove verticalmente e chiaramente anche in questo caso si ha che la larghezza del sensore è disposta perpendicolarmente alla direzione del moto, quindi secondo questo schema si va a ricalcare quello che avveniva precedentemente, solo che in questo primo caso la camera ha una direzione nadirale, l'asse ottico è nadirale, in quest'altro caso invece l'asse ottico è messo supponiamo in orizzontale, quindi in questo caso si avrebbe che il drone sale, si sposta verso destra, poi scende, si sposta ancora verso destra, sale di nuovo e nel frattempo esegue gli scatti in modo tale da garantire una sovrapposizione sia in verticale sia lateralmente, l'altro modo di programmare una missione invece è quest'altro, quest'ultimo schema inverte un po' le cose, nel senso che si ha che la direzione del moto in questo caso sarà in orizzontale e la larghezza del sensore è parallela alla direzione del moto, in questo caso quindi l'APR ad esempio partendo qui dalla sinistra si muoverà verso destra, poi salirà, poi si muoverà verso sinistra, salirà nuovamente, si sposterà verso destra e compierà questo percorso a serpentina sempre eseguendo degli scatti in modo tale da garantire una sovrapposizione laterale e una sovrapposizione verticale ben definita, predeterminata, ora qual è il vantaggio e lo svantaggio di queste due tipologie di missioni, di queste due configurazioni? In sostanza diciamo che questa seconda configurazione è molto più facile da programmare utilizzando ulicci secondo il sistema che vi farò vedere tra un attimo e quest'altro invece sulla sinistra sarebbe ben più complicato, inoltre dal punto di vista aerodinamico chiaramente questa prima tipologia di missione può comportare meglio per velocità di discesa elevate dei problemi dal punto di vista del controllo dell'APR, nel senso che l'APR per tanto che si muove in verticale ha delle velocità che possono essere anche fino a 6 metri al secondo e non presenta sicuramente problemi di stallo, mentre nelle discese solitamente vengono limitate le velocità a circa 3 metri al secondo perché oltre si possono avere problemi di stallo, questo perché chiaramente le eliche devono diminuire la loro velocità e si imposta però una velocità di discesa piuttosto alta e quindi l'APR tende sostanzialmente a stallare e può diventare poco controllabile, questo chiaramente anche se la gimbal può compensare questo genere di vibrazione, di movimenti può indurre però degli scatti anche mossi. In questo secondo caso invece questo problema non si ha, non si ha perché chiaramente l'APR si muove lateralmente, si muove alla velocità programmata però si muove senza scendere, pertanto è molto meno probabile che si abbia problemi di tipo aerodinamico. Quindi quello che vi mostrerò è appunto la programmazione di questo tipo di missione. Come si può fare? Allora innanzitutto vanno determinati quali sono i parametri per scattare gli scatti fotografici con una determinata sovrapposizione, per farlo ho costruito un foglio Excel che è disponibile sul mio sito internet, questo foglio Excel lo utilizzo anche in altri video, dove viene riportato qui all'inizio, vengono riportati i dati relativi al sensore e all'ottica del Phantom 4 Pro che è quello che utilizzo io, quindi abbiamo la larghezza del sensore, l'altezza del sensore, abbiamo la lunghezza focale, poi abbiamo la larghezza della foto in pixel e l'altezza della foto. Chiaramente qui ho già inserito i due valori che servono per programmare la missione secondo questo schema, ossia lo schema secondo il quale si ha che il lato più corto è sostanzialmente il lato perpendicolare alla direzione del moto, mentre il lato lungo è il lato lungo la direzione del moto, il lato parallelo quindi alla direzione del moto. Troverete probabilmente sul mio sito questi due valori invertiti, in quanto è un foglio di calcolo che ho realizzato per la programmazione di missioni con una configurazione tipica, quindi questa prima che vi mostravo, tuttavia funziona anche molto bene invertendo i due valori, gli altri parametri nel seguito si adattano di conseguenza. Ora per me il parametro di input all'interno di questo foglio Excel è il GSD, il GSD quindi il Ground Sample Distance espresso in cm pixel, che ad esempio io voglio per un rilievo di questo tipo, supponiamo di 3 cm pixel, per me significa che posso volare a 109 metri di distanza dalla parete, qui trovate espressa l'altezza di volo massima, tuttavia considerate che noi adesso stiamo programmando una missione di volo verticale, quindi si parla di distanza dalla parete, 109 metri, 109 metri ad esempio possono essere troppi, supponiamo di poter volare a 70 metri di distanza dalla parete, che sono più che sufficienti per avere 1,9 cm pixel teorico, quindi il footprint, le dimensioni del fotogramma schiacciato sulla parete, sostanzialmente sono di 105 metri il lato orizzontale e di 70 metri quello in verticale. Supponendo di impostare una percentuale di sovrapposizione degli scatti orizzontali dell'80%, quindi mi sto muovendo in orizzontale, 80% di sovrapposizione con un intervallo tra gli scatti di 5 secondi, ad esempio perché voglio scattare in formato RAW e quindi il Phantom 4 Pro non permette di scendere sotto i 5 secondi, avrò una distanza tra gli scatti consecutivi di 21 metri e una velocità massima della PR impostabile di 4,2 metri al secondo, impostando 4 metri al secondo avrò una distanza tra gli scatti di 20 metri e una sovrapposizione chiaramente maggiore dell'80%, in particolare 81%. Per quanto riguarda invece le strisciate parallele, ossia la distanza tra le strisciate che compie la PR, vado anche qui ad impostare una sovrapposizione dell'80%, che corrisponde a una distanza massima tra le strisciate di 14 metri, io la imposto proprio a 14 e otterrò un 80% di sovrapposizione, chiaramente se la impostasse a 12 avrei una sovrapposizione maggiore, quindi 82,9, supponiamo di tenere 14, ricordiamoci quindi questi parametri, dopo andremo a pescarceli, come facciamo adesso a programmare la missione di volo. Allora prima di tutto apriamo Mission Hub, questo è appunto l'applicativo web che utilizzeremo, andiamo nella zona dove vogliamo eseguire questa missione di volo, qui ho pensato di eseguirla nel posto più sbagliato che ci sia, nel senso che questo è il Monte Brioni vicino a Riva del Garda, è un biotopo, sostanzialmente una riserva provinciale, quindi qui non si potrebbe volare però ha una bellissima parete verticale, infatti se andiamo ad esempio su Google Maps prendiamo il nostro omino e lo mettiamo qui, o giriamo, ecco qui, questa è la nostra parete verticale. Allora supponiamo di voler eseguire proprio il rilievo di questa parete, come possiamo fare? Allora innanzitutto identifichiamo una buona zona di decollo, supponiamo ad esempio questo parcheggio. Dopodiché quello che vogliamo fare, come abbiamo detto prima, è impostare una missione di volo secondo la quale la PR rimane a 70 metri di distanza dalla parete e comincia a compiere delle traiettorie orizzontali mantenendo la camera anch'essa orizzontale e perpendicolare al piano della parete. Allora la prima cosa da fare è identificare la rotta che sta a 70 metri dalla parete. Io per farlo faccio così, allora qui sotto supponiamo che questa sia la base della parete, metto il primo waypoint, poi rimango distante una certa quota, vado ad identificarmi la fine della prima strisciata e poi inserisco un altro waypoint finale, supponiamo qui. A questo punto come si vede viene evidenziata la distanza in orizzontale dalla parete, noi possiamo spostare il waypoint e cambia la distanza, quindi io lo pongo a circa 70 metri, ecco qua, poi vado sull'altro qui stessa cosa, sono 60,1, lo metto a 70 metri. Bisogna tenere presente che queste righe che non sono altro che la rotta che seguirà la PR devono essere perpendicolari a loro, questo perché chiaramente la distanza è sempre perpendicolare al piano di riferimento, quindi bisogna prestare attenzione a fare in modo che siano tutte perpendicolari fra di loro il più possibile. Si potrebbe anche eventualmente definire la posizione di questa strisciata andando ad inserire dei waypoint di coordinate note, magari facendo un sopralluogo preliminare che non fa mai male, rilevando ad esempio con un GPS le coordinate planimetriche di questi punti e poi inserendole qui a destra, infatti come si vede c'è la possibilità di inserire latitudine e longitudine e chiaramente questo darebbe una posizione più precisa o perlomeno si eviterebbe l'errore dovuto magari all'ortofoto di Google Maps, però permerebbe chiaramente quella dello strumento GPS che si utilizza, che può essere magari quello del telefonino se si vogliono delle coordinate approssimate, oppure quelle comunque di una strumentazione GNSS la quale sicuramente ha degli errori minori. Comunque diciamo che per gli scopi di questo video chiaramente posso utilizzare anche questo sistema di pormi a 70 metri, prendendo appunto una distanza approssimata secondo il metodo che vi ho appena fatto vedere. Poi cosa possiamo fare? Allora una volta posizionata questa strisciata, questa lunga 196 metri, quella che ci interessa e che dovrà percorrere l'APR, va spostato il primo waypoint in prossimità della zona di decollo, che io individuo essere questo parcheggio. Questo per me è utile perché l'altezza di volo che calcola l'ICI, così come tanti altri programmatori di volo, è quella riferita al punto di decollo e lo fanno perché al proprio interno gli APR hanno un barometro che non fa altro che misurare la pressione sul punto di decollo e poi per differenza si calcola la pressione, o meglio si calcola a seconda delle pressioni rilevate durante il suo moto, si calcola la differenza di altezza rispetto alla pressione iniziale. In base a queste differenze di pressione riesce a calcolare quali sono poi anche le differenze di quota. L'ultimo waypoint possiamo anche cancellarlo. Così in linea di massima potremmo volere anche poter realizzare una missione di volo che invece che avere le strisciate in orizzontali, magari che seguono l'andamento del terreno, quindi selezionando waypoint si spunta above ground, apply e come si vede si ha in questo caso un'altezza di volo di 30 metri rispetto al terreno, ma dei 29,5 sul punto di decollo, in quest'altro sono 30 metri rispetto al terreno e 37,2 sul punto di decollo. Questo farebbe sì che in sostanza le strisciate non siano più orizzontali, ma inclinate. Chiaramente invece i fotogrammi sarebbero comunque disposti in orizzontale, la percentuale di sovrapposizione tra i fotogrammi non sarebbe proprio così come la si vede in questo schema, ma sarebbe traslata in verticale. i fotogrammi verrebbero disposti in questo modo. Comunque noi diciamo che facciamo una strisciata orizzontale, in realtà non è una sola la strisciata, io devo poter partire da una determinata quota di volo e poi salire, in modo tale da coprire tutta l'altezza di parete che mi interessa rilevare. Ora vi faccio vedere che se io imposto un waypoint qui a lato riesco a vedere qual è l'altezza della quota del terreno, si vede qual è la quota del terreno e anche quant'è l'altezza sul primo waypoint. A me interessa la quota del terreno qui, se ad esempio andiamo vicino al punto di decollo, vediamo che l'altezza del terreno è a 70 metri, qui è a 112 metri, in cima è a 290 metri, quindi da 112, o meglio facciamo circa 120 a 290, sono circa 170 metri di parete. Noi dovremmo volare a un'altezza massima di 120 metri e al di fuori del biotopo chiaramente, comunque fatto 30 facciamo 31, nel senso che qui il regolamento non lo teniamo in considerazione, ma per scopi puramente didattici, tra virgolette programmeremo la missione di volo qui ad un'altezza ben superiore anche ai 120 metri. Comunque sia, quello che ci interessa adesso per l'appunto è andare a tracciare le varie strisciate parallele lungo un piano verticale, possiamo cancellare l'ultimo waypoint come prima, che ora non ci serve più, a questo punto cosa possiamo fare? Allora, supponiamo proprio di partire da un'altezza di, invece che di 30 metri, li andiamo a selezionare entrambi, supponiamo da 40 metri, 40 metri dal punto di decollo. Poi esportiamo la missione in formato CSV, lo si vede qui in basso a sinistra, sovrascrivo un file creato in precedenza, ok, e poi lo apriamo, lo apriamo con un foglio di calcolo, ecco qua, nella prima colonna vengono inseriti tutti i parametri della missione, per vederli meglio andando nel menu dati, testo in colonne, delimitato, avanti, con virgola, tolgo tabulazione, fine, adattiamo tutte le celle, ecco qua, questi sono i nostri parametri della missione, come si vede abbiamo il primo waypoint a 30 metri e gli altri due a 40, per comodità di spiegazione inserisco una prima colonna dove vado a numerare questi waypoints, quindi waypoints 1, 2 e 3, ecco qua, allora cosa dobbiamo fare noi? Andiamo nello schema che abbiamo tracciato in precedenza, allora qui abbiamo che il primo waypoint è il punto di decollo, quello lo lasciamo stare, per ora non lo consideriamo, il secondo è questo qui a sinistra, come si vede, il terzo è questo a destra, ora l'APR andrà dal primo waypoint che è in prossimità del punto di collo, va sul secondo, poi sul terzo, poi dovrà salire sulla verticale del terzo e andare sul quarto, cioè ritornare verso il primo, però ad una quota maggiore, ad una quota maggiore di 14 metri, come ci comportiamo quindi? Allora possiamo duplicare il foglio Excel, la cartella, possiamo eliminare nel foglio duplicato, eliminiamo il primo waypoint perché quello non ci interessa, e questi due li invertiamo, per farlo possiamo ad esempio selezionare la prima colonna, andiamo ad ordinare le righe, da Z ad A, ordina dal più grande al più piccolo, estendiamo la selezione, ecco qua, chiaramente qui si poteva fare semplicemente un'inversione delle due righe, trascinando le righe, tuttavia in un metodo generale dove si potrebbero avere ad esempio 10 o più waypoint, poi vi farò vedere un caso, è molto comodo utilizzare questo genere di inversione, poi copio semplicemente queste due righe nel primo foglio, però dovrò avere la cortezza, invece di utilizzare un'altitudine di 40 metri, dovrò aggiungere 14, quindi farò 54 metri e 54 metri. Non è finita qui, infatti cosa accade? Come si vede ad esempio sul secondo waypoint, la camera, o meglio la prua dell'APR è diretta verso il terzo waypoint, questo chiaramente non va bene, bisognerà che la prua e anche la camera dell'APR sia rivolta verso la parete, pertanto è necessario ruotare l'APR, ma bisogna ruotare l'APR facendo in modo comunque che si sposti lungo questa traiettoria, cioè dal waypoint 2 al 3. Come si può procedere? Allora, innanzitutto va notata una cosa, qui cambio un attimo le impostazioni per farvi capire cosa intendo, allora, heading mode, waypoint define, ecco qua. Allora, come si vede c'è la possibilità di cambiare l'imbardata, il valore più basso chiaramente 0 gradi, poi andando ad aumentare l'angolo, ruota in senso orario, questo perché lo 0 è verso il nord, mano a mano che aumento l'angolo, ruota in senso orario. Ora, se io volessi disporre l'APR in direzione perpendicolare alla parete, non posso impostare un valore negativo dell'angolo, ma dovrò impostare un valore positivo. Adesso vediamo di quanto. Allora, rimposto to next waypoint, qui vediamo heading 54 gradi. Per impostare la prua dell'APR in modo tale che sia perpendicolare alla parete, devo aggiungere 270 gradi, ossia non posso togliere 90, quindi ruotare in senso anti-orario perché diventerebbe un angolo negativo, devo aggiungere invece 270 gradi. Quindi sul waypoint 2 e anche sul 3 dovrò fare in modo che la prua sia rivolta verso la parete, dovrò prendere l'angolo del waypoint 2 che è 54 gradi, quindi andiamo a controllare, ecco qua un 53,8 e aggiungo 270, quindi semplicemente mettendo uguale più 270. L'1 chiaramente è il waypoint vicino al punto di decollo, non mi interessa, il 2 avrà un heading di 323 gradi, poi il 3 sarà come il 2 e così via anche per gli altri che stanno sopra. In questo modo ho che tutti i waypoints, a parte il primo, avranno un angolo di imbardata di circa 324 gradi. A questo punto mi basta semplicemente copiare queste celle ed incollare i valori, questo per eliminare le formule all'interno. Cancello la prima colonna e salvo. Salvo nel formato CSV. A questo punto posso semplicemente andare in Mission Hub, magari duplico questa scheda in modo tale da non perdere quello che ho fatto finora, vado ad importare il CSV, vediamo dove l'ho messo, eccolo qui, importiamo ed ecco. bisogna impostare come custom waypoint defined ed ecco che le prue della PR su tutti i waypoint sono rivolte verso la parete. Quindi mi raccomando non lasciate l'impostazione to next waypoint perché chiaramente la prua in questo modo verrà rivolta verso il waypoint successivo, bisogna impostare custom. Chiudiamo. Andiamo a ripercorrere i vari waypoints. Selezioniamo il primo, altitudine 30 metri, heading 260 non ci interessa, andiamo sul secondo che sarà qui sotto, non viene evidenziato perché coperto dagli altri waypoint. Quindi heading 324 gradi circa, altitudine 40, poi si va sull'altro, heading 323 gradi, altitudine 40, poi come si vede non si è spostato, siamo sul waypoint 4, heading 323, però altitudine 54 e infine il 5. Quindi il procedimento, questo ci ha permesso di creare due strisciate parallele. Velocemente rifacciamo una parte del procedimento. diciamo che la spiegazione non cambia, è solo un attimo per ricapitolare, perché io posso prendere ancora il foglio di calcolo in formato CSV e poi nuovamente andare a realizzare le altre strisciate, potevo farlo già da subito prima, perché in effetti cosa mi ero trovato qui, mi ero trovato waypoint 1, 2, 3, poi 3 e 2, per fare le altre strisciate a questo punto mi basta prendere ad esempio waypoint 2 e 3, copiarlo sotto, però invece che a 54 gradi sarà, 54 metri scusate, sarà 68 metri, poi mi basta prendere l'altra che mi sono copiato prima, copiarla nel primo foglio, e lo vado ancora dal 3 al 2, però invece che a 68 metri io devo aggiungere ancora 14, quindi sarò a 82 metri. quindi prima strisciata a 40 metri, poi più 14 sono a 54, più 14 sono a 68, più 14 sono 82, leading chiaramente non deve cambiare, sempre 323 e rotti, vado ad eliminare anche qui la prima colonna e salvo, importo la missione, questa la posso a questo punto cancellare, importo, ecco qui, stessa storia di prima, come si vede questa volta si sono aggiunti dei waypoint, perché ho il numero 8 e il numero 9, e sotto avrevo anche 6, il 7, perché prima mi fermavo al 5, vediamo come è fatta però questa questa missione, possiamo esportarla in KML, sovrascrivo un file che ho creato in precedenza, e poi la apro con Google Earth, facendo doppio clic sul KML, mi si apre Google Earth, ed ecco qui la nostra missione di volo, qui chiaramente questa è un'approssimulazione di Google Earth, vi assicuro come si vedeva anche da Google Maps, non è così poco pendente, è veramente una parete verticale, questo è un errore che ho riscontrato tra l'altro anche in altre pareti qui della zona, anche che ho rilevato, sembrano quasi piatte, invece c'era una gran problematica nel rilevarle, in effetti anche questa parete, qui si possono vedere i target che avevamo posto in parete, questa è verticale, addirittura strappiombante verso l'interno, come si vede qui questa zona d'ombra è proprio il caso, eppure me la fa vedere schiacciata, e comunque sia, al di là di quello, questa appunto è la missione verticale, che noi possiamo poi sempre da Mission Hub andare a salvare, la chiamiamo Brione, e la potremo poi caricare all'interno del dispositivo mobile con l'app Leci, per eseguire appunto tale missione, andranno impostati chiaramente i parametri che abbiamo calcolato in precedenza, quindi un intervallo tra gli scatti di 5 secondi, e tra l'altro prima dell'esportazione si possono ad esempio impostare anche altri parametri, perché se io ad esempio vado su ogni singolo waypoint, posso impostare delle azioni, ad esempio sul waypoint 1, o meglio sul 2, quando arriva in questa prima posizione, posso impostare ad esempio di rimanere fermo, supponiamo per 5 secondi, quindi per darmi il tempo di iniziare gli scatti, e ad esempio un'altra azione che mi fa tiltare la camera su 0 gradi, ossia me la pone in orizzontale, questo nel caso magari partissi con l'APR con un'inclinazione diversa della camera, in questo modo evito errori, ossia sono certo che l'angolo che viene impostato è esattamente quello orizzontale, l'angolo 0. Ora è chiaro che questo genere di programmazione delle missioni permette anche una certa libertà, nel senso che qualora io volessi ad esempio creare una missione di volo che mi permettesse di avere più tratti, magari per andare a realizzare ad esempio un rilievo di un prospetto o più prospetti di un edificio, questo si può fare, vi faccio vedere ad esempio una programmazione che avevo impostato, vado ad aprire un file che mi ero salvato, al palazzo delle alberi di Trento, chiaramente questo in pieno città è solo una simulazione, però qui come si vede il punto 1 è il punto di decollo, poi sostanzialmente è stata creata questa missione di volo tutto attorno al palazzo, cosa bisogna tenere presente quando si programma una missione di questo tipo? Sostanzialmente bisognerà che l'APR si muova lungo le traiettorie parallelamente ai prospetti, però con la camera rivolta perpendicolarmente al prospetto stesso, questo deve accadere su ogni singolo prospetto, quindi come è fatta qui non va bene la missione, perché l'APR ha sempre la prua rivolta verso il waypoint successivo, bisogna fare in modo che la camera venga girata, la prua venga girata perpendicolarmente al prospetto, questo è possibile ricorrendo allo stratagemma di prima, ossia si esporta la missione in formato CSV e si va a modificare l'eading dei vari waypoint, però in questo caso si dovrà avere l'accortezza, ad esempio che i waypoint 2 e 3 abbiano lo stesso heading, poi il 4 e il 5 abbiano di nuovo lo stesso heading, il 6 e il 7 idem e poi l'8 e il 9 di nuovo lo stesso heading. Questo lo si ottiene chiaramente andando a sommare o sottrare gli angoli che ci permettono di ruotare l'APR, qui ad esempio abbiamo un heading di 86 gradi, io posso sommare 270 in modo tale da ottenere l'eading che mi pone la camera perpendicolare al prospetto, è da ricordare che questo valore di angolo di imbardata può essere compreso fra 0 e 360 gradi, quindi sommando l'angolo di 270 gradi non posso superare i 360, questo accade ad esempio nel waypoint 4 dove ho 356 gradi, chiaramente qui se sommassi 270 supererei i 360 gradi e questo valore non mi viene accettato, pertanto nella realtà qui dovrò sottrarre 90, cioè da 356 diventerà un 266. Questo significa 266 gradi rispetto al nord, pertanto vediamo come si dispone, qui cambiamo il settaggio, mettiamo sul custom, waypoint 4 heading 266 gradi, come si vede si è girato perpendicolarmente al prospetto, per il 30 e per il 5, scusate, idem, 266 gradi. Questo va ripetuto anche per gli altri waypoints. Poi posso fare lo stesso lavoretto che ho fatto prima in Excel, ossia una volta create le varie strisciate me le importo all'interno di Mission Hub ed esporto il KML. E' da notare una cosa molto importante che riguarda il comportamento di Lici. Allora, quando va la PR dal waypoint 2 al 3, chiaramente si mantiene questo angolo di imbardata. Poi quando va dal 3 al 4 però, l'angolo di imbardata cambia proporzionalmente al percorso compiuto. Questo significa che se nel waypoint 3 la prua è rivolta in questa direzione, perpendicolare al prospetto, mano a mano che si sposta nel tragitto tra il 3 e il 4, ruoterà fino a giungere sul 4 con l'angolo di imbardata che mi pone la prua della PR perpendicolare al secondo prospetto. Questo fa sì che mentre la PR si sposta ruota anche, ruota e nel frattempo scatta delle fotografie che chiaramente vanno a ritrarre per così dire l'angolo di questo palazzo. Poi tra il 4 e il 5 si sposta di nuovo lungo la direzione mantenendo la prua perpendicolare al prospetto e poi tra il 5 e il 6 se il 6 lo avessi ruotato dell'angolo corretto tra il 5 e il 6 di nuovo la PR si sposta e ruota la prua. Qui posso arrivare in questo modo fino al waypoint 9 poi ad esempio sempre col foglio Excel mi basta aggiungere come ultima riga il waypoint 2 per far sì che si sposti dal 9 al 2 e compiere di nuovo questo spostamento con rotazione e sul 2 comincio a creare la nuova strisciata a quota maggiore e faccio tutte le strisciate che mi servono. Quindi questo per dire che la programmazione delle emissioni fatte lavorando sul file csv permette di andare a creare delle emissioni su vari livelli ma anche creando una sequenza personalizzata chiaramente diventa sempre più complessa questa generazione delle emissioni mano a mano che si aggiungono waypoints è sicuramente molto comoda nel momento in cui si va a realizzare una missione di volo molto semplice con varie strisciate parallele tra di loro anche a varie quote ma qui si tratta veramente di impostare un solo valore di heading e riportarselo sui vari waypoints semplicemente poi si copiano le varie strisciate. Bene, spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione mi rendo conto che in realtà quando si generano queste emissioni bisogna stare molto attenti alla numerazione dei waypoints e seguire un certo ordine soprattutto quando magari c'è bisogno di invertire le strisciate bisogna invertire anche le varie righe poi però c'è comunque la possibilità di andare a controllare la missione semplicemente esportando il file KML e visualizzandolo tridimensionalmente all'interno di Google Earth purtroppo un limite di lì ci è che ad esempio su Mission Hub ossia l'applicativo web non è possibile vedere la tridimensionalità si potrebbe vedere la tridimensionalità però solo della mappa di sfondo sull'app sul dispositivo mobile quella che si utilizza in campo per eseguire la missione però purtroppo non si vede la tridimensionalità della missione che è quello che in realtà mi interessa questo secondo me è un limite che prima o poi spero lì ci supererà perché in effetti anche programmare la missione tridimensionale però poi non poterla vedere è abbastanza scomodo bisogna sempre e comunque fare riferimento a Google Earth detto questo quindi vi ringrazio vi lascio però prima i miei riferimenti mi trovate sul mio sito di internet che è www.giampaoloberetta.it su YouTube pubblico questo video e altri sul mio canale Giampaolo Beretta poi ho anche un canale Telegram Inge Giampaolo Beretta a quale potete iscrivermi se avete bisogno di contattarmi potete farlo sempre su Telegram cercando l'account Giampaolo Beretta detto questo quindi vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao